scarantino lei conferma le sue dichiarazioni sì c'è stata questa riunione nella villa di peppuccio calascibet c'erano totorrina pietra ieri giovanni brusca giuseppe graviano e totò cancemi io gentilmente vorrei invitare questo signore a ricordarsi bene di questa presenza di cui lui parla come sono arrivato che ci ha presentati ma tu sei uomo d'onore sì allora spiega chi significa uomo d'onore uomo d'onore sì dai subito risponde che significa uomo d'onore uomo d'onore tu neanche lo sai tu sei un bugiardo che ti ha dato questa lezione devi dire la verità che ti ha messo queste parole in bocca questa è la verità io già sto perdendo la pazienza ma veramente volete dare ascolto a questo individuo questo non sa nemmeno che significa uomo d'onore scarantino tornava a questa riunione chi c'era com'era l'arredamento dove erano sedute le persone descriva bene com'è questa villa si trova in via chiavelli angolo via orsa maggiore all'ingresso c'è un portone grande poi uno spiazzale con le galline lo scivolo poi subito sulla destra c'è una apertura grande si entra là dentro e c'è un tavolo lungo cancemi questo racconto che le sta facendo scarantino le ricorda qualcosa no io mai sono stato in questa casa non riconosco l'esistenza scarantino che cosa è accaduto in quella villa peppuccio ci ha aperto il portone siamo scesi nello scantinato e ho visto a questa seduta grande con tutti questi diciamo uomini d'onore c'era la porta che restava aperta per far uscire il fumo io lo vedevo a uno seduto la che taliava guardava era totorrina seduto dove capotavola poi ho visto a pietro aieri a cantarina giovanni brusca e giuseppe graviano lei ha sentito qualcosa della discussione che stavano facendo io ero entrato là dentro per andare a prendere una bottiglia d'acqua e sentivo parlare e ho sentito a totorrina che diceva questo gran cornuto lo dobbiamo fare saltare in aria come a quell'altro casso scarantino lei è entrato proprio nell'attimo fuggente proprio cioè nel momento in cui totorrina diceva cose così delicate se no che ha perso l'equilibrio del cervello che ne so chi ha perso l'equilibrio del cervello totorrina può essere questo dottore questo raccontino lo può fare chiunque ma io non ci voglio suggerire niente perché voi a me mi potete fare scuola siete più intelligenti di me io vi dimostro che quello che dice lui non esiste nel 1983 io personalmente accompagnai pippo calò a una riunione a san giuseppe iato allora ero capo decina a casa di bernardo brusca attenzione io ero capo decina la c'erano greco calò reina gerace gambino buscemi e altri che non mi ricordo sono entrati nella casetta e si sono seduti mentre io salvatore cancemi che ero capo decina di pippo calò sono rimasto fuori perché sono rimasto fuori perché assolutamente cosa nostra è una cosa seria non l'ho dimenticata mai con regole sane chi sbaglia paga lei è falso allora spiega questo signore vi viene a dire che lui è inciato per prendere una bottiglia d'acqua in una riunione tanto delicata e importante ma assolutamente se fosse vero come minimo doveva intervenire piaccio agliere ci doveva fare un cazziatone scusate l'espressione esci fuori come ti permetti tu a inciare qui e rina viene a dire quelle parole proprio mentre tu prendi una bottiglia d'acqua te proprio in quel minuto rina vede uno uno sciacallo e continua a parlare e contro ogni regola non esiste proprio reina non avrebbe più valore se un soldato si siede al tavolo e assesta alla riunione sarebbe finito e marco la cosa diciamo è già inverosimile di per sé che di fronte a un confronto come questo non siano scattati tutti i controlli possibili immaginabili ma la cosa ancora più importante che adesso la boccassini che diciamo si sposta da quella procura poi al nord prima di andarsene via decide di fare una sorta di diciamo di relazione scritta nella quale sostanzialmente dice guardate che qui non bisogna prendere per buone le cose che dice scarantino non sono d'accordo vanno approfondite e va pure a testimoniare su questa cosa diciamo come possiamo sentire in un minuto sentiamo proprio per l'indagine di via d'amelio era uscita l'utenza di spatuzza tant'è che il tabulato di spatuzza gaspare è stato acquisito proprio da me nel 94 il da boccassini aveva scritto ipm tinebra palma e di matteo proprio per suggerirgli di riconsiderare l'attendibilità di scarantino a mio giudizio andava sospeso tutto cioè nel senso che dovevamo verificare fare fare confronti perché secondo me bisognava fare prima luce su scalantino e dopodiché ricominciare con molta umiltà e con molto saggezza equilibrio il dominus delle indagini sono i pubblici ministeri che a fronte di quelle cose hanno concluso che si doveva andare avanti così questo è quanto ha detto a boccassini pare completa la ricognizione cioè il punto che si pone è questo cioè la boccassini in maniera chiara sembra difendere addirittura la barbera cioè rispetto alla procura e dar addosso alla procura cioè dice insomma aspettava loro fare gli opportuni accertamenti invece non li hanno fatti e tutto sommato la barbera per lei rimane un investigatore punto e basta cioè magari messo su una strada sbagliata non sappiamo dopo glielo chiederemo se dalle sue stesse azioni oppure dal fatto che scarantino può essere stato imbeccato da qualcun altro dopo glielo chiederemo cosa dice tra ma io non vorrei che queste beghe fra magistrati ci facessero perdere il il punto centrale della della questione perché è anche immaginabile qui sai se fosse soltanto qualche pubblico ministero ingenuo che si è bevuto scarantino sarebbe una ordinaria storia di errore giudiziario in realtà scarantino è stato istruito molto bene da chi lo ha formattato e lo ha consegnato stiamo parlando scientificamente informato importantissima perché scarantino viene creduto da alcuni magistrati la boccassini dice che non ci credeva ingroia a palermo idem disse questo non mi convince ci può essere qualcuno ci può essere qualcuno che è più diciamo scafato qualcun altro meno e non possiamo nemmeno mettere sullo stesso piano tutti i magistrati che c'erano a caltanissetta di matteo era magistrato da sei mesi gli altri è chiaro è chiaro che quelle scelte lì vengono compiute da grandi grandi poliziotti come la barbera che ha un medagliere infinito e i vertici di una procura qual era il problema che lo stato non acchiappava nemmeno le farfalle in quel periodo non riusciva a venire a capo di niente quindi c'era un'urgenza di risultato e cosa gli capita gli capita collaboratori di giustizia re i confessi che dicono cose che sembrerebbero poter provenire soltanto dai veri colpevoli perché perché chi lo può immaginare che questi pentiti sono che si auto accusano sono stati imbeccati dalle forze dell'ordine su particolari dettagliati che solo i veri colpevoli potrebbero conoscere il problema non è che scarantino e chi ha creduto a scarantino ha fregato due o tre magistrati il problema è che ha fregato una corte d'assise con magistrati giudici togati e giurati popolari con gli estratti a sorte con la fascia tricolore corte d'assise d'appello corte suprema di cassazione per 15 anni finché non è arrivato spatuzza allora per ritornare al vero problema che gli salta in mente a uomini delle forze dell'ordine della squadra che si chiama falcone borsellino e che è specializzata nella ricerca dei colpevoli delle stragi di fabbricare un falso colpevole subito dopo la strage di via d'amelio perché sai se uno volesse coprire una malefatta fatta da un poliziotto allora diceva beh i suoi colleghi hanno cercato di parargli il culo detto molto ma qui stanno cercando di coprire una strage non fatta da uomini dello stato almeno parrebbe essere stata fatta dai fratelli graviano attraverso il loro killer prediletto che non c'entrano niente con la guadagna quindi quando c'entrano niente con la guadagna perché quando tu porti sulla guadagna perché sono i boss di brancaccio questo è lo stesso copione che a ogni strage vediamo realizzarsi è il copione di piazza fontana un minuto dopo l'esplosione della banca dell'agricoltura a milano arriva l'informativa dal ministero dell'interno pista anarchica valpreda è la stessa cosa è la stessa qui arriva scarantino che depista non rispetto a responsabilità istituzionali ma rispetto ai fratelli graviano e gas per espatuzza la domanda è quali doti nascoste hanno i fratelli graviano per giustificare il fatto che lo stato la squadra della polizia della squadra mobile di palermo interviene immediatamente a scagionarli offrendo in pasto ai magistrati un falso colpevole anzi una serie di falsi colpevoli ecco perché poi uno parla di trattativa perché in questa storia non riesci mai a capire dove finisce lo stato e dove comincia la mafia e viceversa allora fermiamoci un attimo